oi ciao Oscar! oi Alduccio ciao dov'hai? ti chiedi capito? ma quale capito? un incantino di quello che tengo non ci potrai mai credere che ti dico? tengo una pazza di 20 centimetri ma che dici? voglio aprire? non ci credo? fammi aprire una pazza di 20 centimetri guarda 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 ma Ronni che impressione? hai visto che impressione? ma com'è? Alduccio tu devi sapere che io a casa tengo una lampada di Aladì ha gesto rufinato la lampada io ho espresso il mio desiderio o è? mi potevo esprimere uno solo e Aladì mi ha regalato i pazzi i 20 centimetri che cosa sta sta là? a casa, venga a casa e posso pure? venga a casa, venga a casa e ti faccio solo una volta pure te oi, ho scarro carico! vii caro Aldo, complimenti! ti sei fatto questo bello piazzetto di bighiard ma chi se l'ha fatto? ti ricorda la lampada di Aladì che mi hai prestato? E come no? Dici cercavi un miliardo E chi lo mi ha mandato un bigliardo? Secondo me che lui è cizzato la nuda è assurdo O vero è assurdo? Secondo te cercavi un pazzo ai 20 centimetri? Ma però...